Il tema dell'intelligenza artificiale è stato approfondito in varie sezioni e avrete il programma. Oggi c'è questo tema, ma soprattutto c'è il ritorno di una persona, di un filosofo, che grazie a Alessandro Bolche, che è qui e che ringrazio pubblicamente, che ci ha fatto conoscere, Floridi e non Floridi come dico io, Floridi, Florido, qualcosa di Florido. Se voi sbagliate adesso lo sapete come si dice, e che torna in questa occasione e che spero tornerà spesso. Ti faccio un invito davanti a tutti perché quando parli di qualsiasi cosa, di politica, di elezioni, di intelligenza artificiale, di noi oggi al mondo, ci piace molto ascoltarti perché ci fai capire quello che dici. Che è una cosa abbastanza eccezionale perché tutte le persone che sono considerate intelligenti si permettono di non pensare a cosa capisce la gente in sala. E io tante volte mi sono detta, ma dopo questa bellissima Alexio, se io esco e chiedo alle persone cosa avete capito di quello che è stato detto, non so quante persone possono dirmi che cosa è stato detto. Ecco, invece, grazie alla lucidità e alla voglia di comunicare, e non il fatto che non lo fai per te ma lo fai per noi, noi oggi capiremo molto di più della nostra vita. Grazie e benvenuto. E con questa premessa siamo rovinati. Rovinati perché ovviamente la delusione potrà essere profonda. Allora, è vero che a fare le cose semplici ci vuole tanto lavoro. Devo spiegare ai miei ragazzi, guardate che a fare le cose complicate, soprattutto se sei un po' intelligente, ci vuole poco. Poi a fare le cose complicate furbe ci vuole pochissimo. Qualche parolone, qualche idea un po' strana e magari qualche eccitazione che non c'entra niente e all'improvviso le persone dicono, non ho capito niente, deve essere un cervellone. E sappiamo tutti che non funziona così. Cioè la frustrazione che io ancora ricordo da studente universitario di leggere testi dei quali non capivo nulla e rileggerli, rileggerli ancora. Dicevo, ma è possibile che sia proprio colpa mia? E poi cominci a sospettare che forse lo scrittore, o in genere lo scrittore, raramente la scrittrice, aveva qualche torto. Allora, la voglia di capire c'è. Adesso vedremo se poi alla fine della serata questo desiderio sarà anche esaudito. Subito un ringraziamento ad Alessandro per averci messo in contatto e a tutto il team del teatro Valenti per ospitarmi e ospitarci di nuovo. Forse questa cosa si ripeterà, ma oggi facciamo un lavoro che ha un inizio e una fine, quindi non una lezione di quelle per cui ci rivediamo la settimana prossima. E il tema, come vedete, è un po' quello sul che cosa sta succedendo nel mondo rispetto all'intelligenza artificiale. Il sottotitolo forse è la cosa più importante. Tra un po' cominceremo a fare anche del lavoro, ma ultima premessa, prima di iniziare. Quando andate da qualche parte, leggete magari un giornale, oppure c'è un guru di turno, un sapiantone, magari su Rai 1, che dice delle cose, vede gente, ecco, poi sparla sul futuro. Ah, ma guardi, di qui ha 30 anni. E ne sparano, ma ne sparano grosse. Allora, io vi ricordo soltanto una cosa. Quando sentite il primo che vi dice, guardi, di qui ha 30 anni, immaginate di essere nel 1930 e qualcuno vi spari nel 1930. Guardi, di qui ha 30 anni. Sono passati 30 anni e siamo nel 1960. Voi pensate che qualcuno nel 1930 fosse in grado di prevedere che cosa sarebbe successo in Europa? I disastri, bombe atomiche, l'arrivo della guerra fredda. Impossibile. No, ma chi poteva immaginare nel 1930 come sarebbe stato il 1960? Io vi dico 30 perché è l'ultimo convegno dove sono stato. Una collega che diceva siamo come nel 1930. Appunto, allora non ci capiamo nulla perché chi può prevedere. Ecco, attenzione a non spararle a palle incatenate. Perché non è fatto bene. Cioè, impressiona chi poi non ha magari gli strumenti per dire ma guardi, lei non sta dando molto senso a queste parole. Allora, dice, ma come facciamo? Possibile che il futuro è del tutto indeciso, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa dire. Non è così. E qui il sottotitolo. Bisogna capire dove stiamo. E poi ci sono due ingredienti, normalmente, per capire un po' come potrebbe andare. E vi ricordo, potremmo essere nel 1930, quindi magari le cose che dirò non si avvereranno. Però qualche intentativo vale la pena farlo. E perché due ingredienti? Uno, sono le costanti della storia. Cioè, certe volte è sempre andata così. Non è che gli esseri umani cambiano da un decennio all'altro. E poi ci sono le variabili che hai sotto mano. Le variabili di quelle cose che tu vedi oggi svilupparsi hanno una loro direzionalità. Allora, tra le costanti della storia, guardi che grosso modo, la storia un po' si ripete, però non si ripete sempre, ogni tanto si ripete con un qualche di sguido e le variabili, quello che è sotto mano. Ecco qui le premesse e capire le premesse per cercare di arrivare a qualche conclusione. Allora, per fare questo, io mi servirò di questa mappina e qualcuno di voi che era a on-life avrà visto più o meno già non le stesse cose, perché non ci si ripete, ma grossomato la stessa grafica. e su questa mappa io tornerò. È tutto fatto in inglese, ma non perché sono un po' pigro. Questi sono i quattro argomenti che tratteremo oggi. Uno, il primo, è come interpretare l'intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? E cercherò di spiegarvi che è un divorzio, non è un matrimonio. È il divorzio tra la capacità di agire in vista di un fine, con successo, chiamatelo risolvere un problema, e la necessità nel fare questo di essere intelligenti. Cioè queste due cose, quello che in inglese si direbbe la agency, cioè la gentità, la capacità di agire, e la necessità di essere intelligente nell'agire così che tu abbia successo, oggi siamo riusciti a scollarle. È fondamentale, è anche gravissimo. Di qui questioni etiche. È da questo scollamento che molte delle questioni che oggi abbiamo nascono. Se fosse un matrimonio forse potremmo stare più tranquilli. Invece è un divorzio. E in questo baratro che si è aperto tra la capacità di agire e la necessità di essere intelligente nell'avere successo quando agisci, in questo spazio si creano i problemi che abbiamo oggi. Alcune sfide e poi quello che potrebbe essere l'approccio a queste sfide. Allora serve quella che anche in italiano si chiama governance, cioè la capacità di governare, cioè di gestire queste straordinarie risorse che chiamiamo intelligenza artificiale. Ora questa mappina ritorna. Questi concetti adesso abbiamo un'oretta cercherò di spiegarli in modo semplice. Partiamo dal divorzio. Allora questo è il signor Alan Turing e spero che si legga fino lì giù quello che c'è scritto in questa medaglia che c'è scritto Can Machines Think? Questo è l'Ebner Prize. Lo diamo, l'ho dato io una volta la prima volta normalmente avviene negli Stati Uniti ed è un premio che si dà a un software che riesce a passare il test di Turing. Adesso ve lo spiego il test di Turing alcuni di voi lo conoscono a memoria ma per chi insomma non c'era quando ne parlavamo la cosa più bella è questa frase. Ora questo l'Ebner Prize ha oro, argento, bronzo normalmente si dà un premio di consolazione bronzo a chi per forma brutto italiano permettetemelo meno peggio. Cioè il software che abbiamo oggi è talmente scadente nel passare questo test di Turing che si dà il premio a quello che veramente è riuscito come dire a finire la maratona. Ci siamo intesi? Questo test il Lebrun Prize venne dato ogni anno sulla base di questo test che Turing il padre sostanzialmente dell'informatica pubblica in questa rivista molto prestigiosa che si chiama Mind e dal titolo Computing Machinery and Intelligence è un articolo prestigioso e molto importante che dà le fondamenta al test che adesso vi spiego su questo tema. Ora il guaio di oggi non soltanto dei ragazzi e delle ragazze ma un po' di tutti è che qualcuno legge ma poi smette di leggere. Se voi leggete l'articolo la domanda è proprio quella le macchine possono pensare e se la pone Turing bellissima domanda basta continuare a leggere l'articolo perché tante pagine dopo quelle che non legge nessuno Turing torna sulla domanda e dice questa domanda è completamente idiota questi del Lebran Price se la sono scordata possibile signori che non vi siete letti tutto l'articolo e lo stesso Turing dice guardate è completamente idiota perché non sappiamo che cosa sia una macchina e che cosa significhi pensare semplice no? Ora lo diceva non un pellegrino qualsiasi dietro l'angolo cioè il filosofo di turno lo diceva il padre appunto dell'informatica perché diceva ma non sappiamo come non sappiamo che sia una macchina lui era un scienziato serio per avere una definizione devi avere condizioni necessarie e sufficienti in modo che qualunque cosa sia una macchina soddisfa la definizione e chi soddisfa la definizione è una macchina non ce l'abbiamo non avendocelo non puoi gestire il concetto non è come H2O acqua acqua H2O avendo queste cose un po' scivolose tra le mani il Turing di turno che era un furbacchione anche se stava a Cambridge e decide è come guidare la macchina non dice così ma insomma per semplificare ci vuole un test tu non mi puoi dare una definizione di chi è uno o una in grado di guidare me lo fai vedere se guida bene bene se guida male male comunque la patente la diamo soltanto a chi sa guidare facciamo un test allora ve lo ricordate questo qua che è Machine Thinks è una sciocchezza che lo stesso Turing dice questa domanda non c'è risposta bisogna fare un test e che test facciamo prendiamo due cose un essere umano e un computer le mettiamo in un'altra stanza a quei tempi si parlava di telescrivente però pensate email e dall'altra parte qui sotto ci mettiamo noi e gli facciamo un po' di domande se come vi ho scritto lì il 70% delle volte che facciamo queste domande nel giro di 5 minuti non riusciamo a capire chi è chi cioè restiamo in dubbio ma la risposta me l'ha data un computer o un essere umano il computer ha passato il test vuol dire che si è tra virgolette mascherato talmente bene da passare per essere umano diciamo va bene benissimo questa cosa qua è facilissima ci mancherebbe e come siamo messi oggi? malissimo non lo passa nessuno letteralmente adesso vi faccio vedere dove siamo messi oggi vi ricordo questo avviene sempre negli Stati Uniti la prima volta che lo abbiamo fatto il Leibner Prize e il test di tuning in Gran Bretagna era uno dei giudici io purtroppo a qualcuno di voi l'ho già raccontata questa cosa quindi perdonatemi la riracconto a chi non l'ha sentita stiamo seduti c'è la giornalista mi dispiace una signora che succede della BBC peggio per la BBC dice che fa la giudice anche lei? guardi professore facciamo delle domande così incastriamo il computer non risponderà mai signora è sicura lei professore ci penso io ho delle domande micidiali questo lo secchiamo subito guardi faccia pure e chiede oh questo se googlate lo trovate ancora perché poi c'ha scritto anche un articolo purtroppo e chiede digita e fa ti piace il gelato? letteralmente ci arriva ovviamente un sì o no? oddio 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 non si capisce chi è l'umano e chi è il computer oddio sta passando il test di tiunghi ci siamo quasi guardi signora non è così se lei fa una domanda così basta una monetina una risposta sì o no mentre il professore comincia la lezione e cerca di spiegare alla zucchina che la cosa non funziona in questo modo la signora guardi ma no non funziona ce l'ho io la prossima domanda guardi stia tranquillo va bene sempre perché uno gentiluomo ci mancherebbe avanti le signore e fa un'altra domanda e sapete cosa chiede? credi in Dio? sì o no? ha passato tempi duri oddio ci abbiamo intelligenza artificiale ma signora mia lo capisce anche una vertuccia che se tu fai una domanda sì o no dall'altra parte basta dire una monetina sì qualunque cosa ci sia potrebbe essere anche la caffettina di mia nonna cioè che c'entra? allora poi riprendiamoci i guardi aspetti adesso gliela faccio io una bella domanda e siccome sempre di Roma sei ho tradotto in inglese una frase famosa noi a Roma parliamo in questo modo i quattro evangelisti sono tre Pietro e Paolo che c'è di sbagliato? è lunga da spiegare questa ora però non gliela potevo fare così perché era un test inglese allora gli ho detto le quattro capitali della Gran Bretagna sono tre Liverpool e Manchester che cos'è di sbagliato? uno mi ha detto ma letteralmente ma che stai a dire proprio intradotto in inglese ma hai detto quattro ma non c'è tre le due che menzioni poi ce n'è una e l'altro e mi ha fatto tutta una bella spiegazione l'altro mi fa non sono un'enciclopedia adesso fammi pensare chi sarà l'umano e chi sarà ecco allora alla signora gliela abbiamo spiegato bene in questo caso Turing nel 1950 pubblica quell'articolo e dice il test di Turing non lo chiamava così perché era un gentiluomo il mio test lo passerà all'intelligenza artificiale quando dice secondo lui nel 2000 ora perché nel 2000? perché l'ha pubblicato nel 1950 cinque dita cinquant'anni 2000 la scienza la fanno così a Cambridge no ma adesso migliora la cosa poi arriva Eric Schmidt con il quale ho dei rapporti un po' una certa interazione attraverso ero stavamo discutendo per un certo periodo sul diritto all'oblio e con Eric Schmidt ci si vedeva spesso perché facciamo il tour dell'Europa per parlare di questa cosa ero nel advisory board di Google e si comincia a parlare del test di Turing e lui dice c'è un'intervista e lo trovate su YouTube tutto lì brutto del digitale che certe cose restano ma io ho sentito dire da molte persone perché lui è intelligente non dice io penso ho sentito molte persone che dicono che il test di Turing sarà passato dai computer nel 2018 adesso piccolo esercizio nella sala secondo voi quando l'ha detta sta cosa che l'avrebbe passata nel 2018 perché se l'ha detto nel 2013 è deprimente cinque anni semplice no? e il 2018 è passato e non è successo niente vi assicuro il test di Turing non l'ha passato nessuno però medaglina a bronzo Kurzweil grande sostenitore di questa Roma dice no ma adesso l'intelligentine arriverà terminato ci rovinano tutti mettiamo il cervello nella vasca lo rimpiantiamo le cose che ha detto Kurzweil ed è preciso dice no nel 2028 no non una data qualsiasi 28 è difficile 5 10 15 non torna perché proprio 28 poi scopre che lui nel 2028 ci avrà 80 anni e chi se ne frega cioè nel senso possibile che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale evolve sulla base del suo anniversario ecco il più intelligente di tutti comunque è sempre di Cambridge perché io ho imparato molto da questa previsione quando qualcuno il giornalista di Turing dice senta professore quanto potrà venire questa cosa tu spara la lunga l'importante è che tu non ci sia in giro 2115 adesso lascio a voi determinare quando l'ha detto perché se l'ha detto servono due mani 100 anni da oggi l'ha detto nel 2015 ovviamente allora avendo capito la lezione di Turing non ha aggiunto 50 ha detto senti fai che magari tra 50 anni ci stanno ancora in giro fai 100 che così siamo tranquilli ecco così funziona il mondo allora questo è come sta oggi messa l'intelligenza artificiale domandina al software migliore che abbiamo nel mondo questa era l'ultima volta che ho guardato ma insomma tutta la c'è il veicolo serve il neutrale in italiano il veicolo non potreva entrare nel parcheggio perché era troppo piccolo che cosa era troppo piccolo? non sono in cirrupedia eh no sei una zucchina di computer perché è chiaro che se uno è l'altro uno era troppo piccolo per l'altro non sarà mica il veicolo troppo piccolo per il parcheggio sarà il parcheggio che era troppo stretto però questo è il mondo in cui viviamo la l'intelligenza è questa nasce tanto tempo fa la data qui sotto è importante è stata la combinazione di 50 anni nel 2006 in realtà la parola nasce nel 1950 e qualche cosa ed è un gruppetto di geni ma geni di brutto c'è John McCarty che è il padre dell'intelligenza artificiale nel senso della parola poi c'è Marvin Minsky che è uno dei grandi artefici dell'intelligenza artificiale come si è sviluppata quella simbolica Rochester che è stato uno degli autori più importanti per l'intelligenza artificiale all'IBM e Shannon quello della teoria di Shannon cioè quello della comunicazione grazie al quale noi usiamo telefono e tutto il resto questi quattro ragazzi stanno insieme e devono fare la domanda per un finanziamento questo finanziamento ha vedete 55 quando hanno fatto la domanda poi nel 56 hanno preso i soldi ergo 50 anni dopo hanno messo la targa e dice io poi John McCarty l'ho anche incontrato era molto più anziano e lui stesso mi diceva quanto era sorpreso che la cosa avesse avuto questa presa nel senso tu ti inventi una parolina anzi due e tutto il mondo poi da allora comincia a parlare di intelligenza artificiale e dice guardate che allora è qualche cosa che se l'avessero fatta gli umani la dichiareremo intelligente allora voi capite che è come la lavastoviglie cioè se questi piatti li avesse lavati Luciano avrebbe dovuto esercitare l'intelligenza non vuol dire che la lavatrice di Torno la lavastoviglie abbia un milligrammo di intelligenza questo che si chiama in filosofia è un controfattuale ce lo siamo scordato e allora d'ora in poi anzi da l'ora in poi abbiamo cominciato a pensare che se il risultato è lo stesso allora il processo deve essere lo stesso allora la fonte deve essere la stessa cioè che se tu lavi i piatti tanto bene quanto me e io per farlo lo devo fare in maniera intelligente allora sei intelligente lo capite che non ha alcun senso però purtroppo ce lo siamo un po' dimenticato e allora abbiamo cominciato a parlare di intelligenza artificiale sul serio e questo adesso vi ho fatto un po' di storia adesso saltate i 50 anni vedi cinque dita oggi la performance di questa roba qui è pazzesca cioè ad esempio in termini di riconoscimento della voce questo me lo ricordo bene perché quando qualche anno fa dovevi prendere il biglietto del cinema letteralmente con mia moglie a Oxford e lo dovevi prenotare per telefono e c'era la solita macchinetta dall'altra parte lo sapete dove stava il cinema ah ci sta ancora a Oxford sta in una via che si chiama adesso ci provo ancora un'altra volta attenzione George Street che se non dici George Street quello il biglietto non te lo dà zero cioè pace try again George 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 pace try again zero poi senti la passi a mia moglie che parla inglese e prendi il biglietto oggi come ti pare George Street George George Street capisce tutto il biglietto lo compri sempre perché pochi anni dopo questa roba qui funziona benissimo allora vi ricordate se il risultato è indistinguibile umano computer non vuol dire che il processo sia lo stesso e la fonte sia ugualmente intelligente però oggi fa impressione allora questa cosa qui oggi nel 2017 quando abbiamo passato la soglia per cui ad esempio le macchine riconoscono la voce umana meglio degli esseri umani ecco questo mondo qua che cos'è che lo ha generato in realtà una separazione vi ricordate come ho iniziato abbiamo separato l'intelligenza dalla capacità di agire questo cut and paste cioè questo scollare e incollare ne ho già parlato una volta qui a teatro e forse me l'avrete già sentito raccontare quindi lo dirò in maniera breve vi racconto un po' e poi ritorniamo sull'intelligenza artificiale ma ad esempio per esempio l'on life di cui abbiamo parlato molto la scorsa volta su l'on life qui grazie anche all'evento e non sarò qui a dilungarmi sulla faccenda ma quest'idea che noi abbiamo incollato l'essere offline e l'essere online nel on life questa è una delle cose che appunto il digitale ha fatto per noi c'è poi molto di più abbiamo anche incollato analogica e digitale oggi nessuno dovrebbe più distinguere se è online se è offline è digitale è analogico è tutto rimescolato è stato tutto incollato abbiamo tuttavia anche scollato le cose esempio la localizzazione e la presenza l'abbiamo scollata ma di brutto e l'abbiamo scollata noi nessuna altra generazione l'ha mai vissuta come due cose separate indipendenti per cui tu stai in un posto ma interagisci in un altro ecco sei localizzato ad esempio nella tutta stanza pure al bar intanto però sei presente su facebook in banca o quello che vuoi e poi abbiamo anche scollato la legge dalla territorialità in passato questa è una mappa diciamo del 1600 qualche cosa Westphalia quando questo di nuovo mi ripeto per alcuni di voi ma quando vi ricordate finiscono i tre moschettieri in genere qualche film di Hollywood che c'è Riscele con la corazza l'assedio perché c'è la guerra dei trent'anni ci sono le guerre religiose quando si rincontrano vent'anni dopo c'è stata Giast Westphalia e quindi diciamo il mondo si è un po' rasserenato e abbiamo inventato questa cosa bellissima in Europa ci sono volute la guerra mondiale zero a casa mia si fa così a casa tua si fa colà questo è un po' Westphalia ecco per raggiungere questo accordo abbiamo dovuto decidere che i limiti della legge erano i limiti del territorio cioè che la Francia aveva il suo bordo il suo territorio il suo limite il suo confine e magari la Germania un altro con il digitale questa territorialità è saltata tutta vi ricordate quella cosa che vi ho detto sulla con Eric Schmidt che giravamo sul diritto all'oblio ecco quello lì nasce anche dal problema che nel cibespazio abbiamo scollato la territorialità della legge e oggi è molto più complicato capire come faccio a mettere dei limiti quando i limiti non ci sono non sono fisici vi dicevo allora se il digitale cut and paste cioè scolla e incolla cose che abbiamo ereditato dall'epoca moderna ve ne ho fatto tanto qualche esempio ce ne sono molti di più ma allora per l'intelligenza artificiale è un momento di incollaggio o di no di stacco è un matrimonio o è un divorzio io ho già cercato di convincervi spero insomma con successo che si tratta in realtà di un divorzio ma la stampa che noi oggi riceviamo la pubblicità le grandi aziende i giornalisti parlano sempre di matrimonio c'è l'intelligenza biologica c'è un prodotto ingegneristico li mettiamo insieme boom ecco l'intelligenza artificiale non è così il mio iphone che adesso si è morto perché non ha elettricità quando era ancora vivo qualche minuto fa avrebbe giocato a scacchi meglio di chiunque altro in questa stanza a intelligenza zero ma da un punto di vista scacchistico imbattibile da chiunque fosse qui allora rendiamoci conto che in realtà è un divorzio tra la capacità di agire e l'intelligenza e chiediamoci come funziona questo divorzio allora adesso cinque punti e cominciamo perché la parte più divertente è finita la brutta notizia è questa adesso bisogna fare un po' di lavoro punto numero uno l'intelligenza artificiale è passata dalla logica alla statistica se anche soltanto questa cosa vi resta in mente basta cioè noi non facciamo più intelligenza artificiale un lavoro con se allora se allora se allora ma questo è coordinato con quest'altro tanti punti di qua con tanti punti di là questo coordinamento che è del tutto statistico ti permette di riconoscere i gatti su facebook che è una cosa miracolosa perché l'attrezzo vi ricordate ha l'intelligenza di una caffettiera è straordinario che riesca a vedere dopo diecimila volte che vede un gatto un gatto dica gatto non è è stupefacente ora certo se pensi alla caffettiera di nonno vabbè ma che lo faccia autoumunamente in maniera poi tra l'altro affidabile che una volta che ha imparato a riconoscere i gatti poi li riconosce ovunque sempre non soltanto quei diecimila ma qualsiasi gratto tu gli butti addosso quello dirà gatto bellissimo perché? perché lavora con la statistica non più con la logic questa mappina qua adesso mi metto un po' di lato così ve la spiego un po' meglio ecco se guardate la parte più scura è dove in realtà il paradigma dell'intelligenza artificiale ha fatto la differenza network biasiani neural networks programmazione di tipo probabilistico la visione computerizzata il processing del linguaggio naturale ecco vi ricordate George Street sta qua è grazie alla statistica che adesso quell'attrezzo capisce quando io dico George Street e va bene lo stesso non con l'intelligenza quindi anche di un pesce rosso ma con le straordinarie capacità della statistica quindi punto numero uno perché abbiamo intelligenza artificiale oggi perché abbiamo tanta statistica punto numero due non soltanto ma abbiamo messo tutto questo in una scatola che si chiama in ingegneria una envelope la envelope è anche proprio la busta quella dove ci si metteva una volta altri secoli il franco bollo la envelope è letteralmente lo spazio tridimensionale all'interno del quale un robot agisce con successo qui vi ho presentato questo che è un tipico scenario da produzione automobilistica vedete dove sta l'essere umano e questo spazio non è il suo spazio non è il nostro spazio è lo spazio per questi enormi aggeggi che girano le automobili come se fossero dei grissini ecco questo spazio qua che vi indico è la envelope allora che cosa vuol dire enveloping the world vuol dire che noi stiamo trasformando il mondo in uno spazio che è amichevole e friendly alle macchine non che le macchine sappiano gestire il mondo ma è il mondo che si sta adattando alle macchine questo è importante allora se voi vi ricordate la lavastoviglie la lavastoviglie ha un envelope che è il box tridimensionale all'interno del quale il robottino è assolutamente scemo cioè due pale che girano e tanto sapone nessuno fa i piatti in quel modo non dentro casa no questo me lo ricordo perché questo esempio tra l'altro poi chiudiamo qua ma noi da militari facciamo così ci divertiamo tanto si prendeva questa stanza casserone cos'è e cogli spazzoloni acqua ovunque sapone un pasticcio diciamo così però eravamo ragazzi militari insomma ma non si fanno così i piatti sicuramente non proprio nella propria cucina torniamo all'esempio ecco noi stiamo via via vivendo sempre di più dentro una lavastoviglie spero che l'analogia adesso sia chiara cioè in uno spazio che è fatto per questi meccanismi non viceversa ma sei sicuro ma veramente ma voi avete visto le auto quelle autonome quelle che dovrebbero girare senza di noi non è che abbiamo fatto dei robot che vanno lì come in guerra stellari e guidano al posto nostro cambiano la marcia non è così abbiamo cambiato l'automobile abbiamo buttato via le marce abbiamo buttato via il volante quella macchina lì quell'automobile non ha più bisogno dell'essere umano ma perché? perché tutto l'ambiente no la aiuta ad andare in giro allora questo è la envelope e perché avviene? avviene a costi molto più bassi abbiamo tanta computazione abbiamo tantissimi dati adesso ve li faccio vedere abbiamo il machine learning che vi ho fatto vedere prima quindi straordinaria capacità di computazione anche di tipo statistico abbiamo questo che chiamano la internet of things cioè le cose ormai si parlano tra di loro è sempre di più e abbiamo più vita online noi da quella parte viviamo sempre di più sempre più nel digitale sempre meno nell'analogico allora i veri nativi non sono la nuova generazione sono i digitali stessi cioè noi comunque in qualunque generazione saremo saremo sempre un po' come dire degli invitati nel mondo del digitale perché noi siamo esseri analogici allora veramente è così ma sei sicuro ecco queste sono statistiche tra le tanti ma questo è il numero di persone che nel 2019 hanno interagito con personal digital assistance Cortana Siri Alexa quello che volete e sono più di un miliardo e 300 mila quando arriveremo al 2021 saranno quasi due miliardi l'ha capito che l'interazione con quel mondo lì genera sempre più digitale sempre più lava stoviglie lì dentro stiamo e tanti dati questa è la lava stoviglie dove lavoriamo questi dati la cosa importante non è questa qua ma è questa qui giù 2005 e prima niente cioè se voi quantificate i dati che noi abbiamo li abbiamo tutti creati negli ultimi 15 anni questa generazione qua quella vivente tutti prima 2015 0,1 zeta byte come dire noccioline niente quello include Dante Shakespeare di tutto ma anche tutti i gatti su Facebook vedi sopra ora da lì a 2019 che stiamo già sono già diventati 47 arriveranno a 163 dice ma come fanno a saperlo magari hanno sbagliato ma magari un 10% di errore ma anche il 20 come sia sia capite che tutto il mondo del digitale l'abbiamo costruito la generazione vivente e ci sono per un'altra giornata non oggi ci sono problemi grossi qui perché non solo sono nati tutti insieme muoiono tutti insieme non ve lo scordate questa è una generazione che è venuta su tutta insieme e per tenerla in piedi ci vuole tanto lavoro questa crollerà letteralmente tutto insieme chiudo qua ma tutti quei cd che avete a casa se hanno sette anni di vita dopo sette anni ci potete giocare a frisbee non funzionano più ma come tutto quei bei dischi che mi sono fatto tutta quella spero che tu non abbia buttato l'LP perché quello lo puoi ancora sentire il cd o il dvd quello ci può giocare letteralmente a frisbee dopo sette anni perché la plastica su cui sta si rovina molto velocemente sette anni è la media capace che voi siamo contenti avete comprato uno di qualità capace anche dieci allora questo è il mondo in cui viviamo in cui siamo noi ad essere un po' sotto pressione sei sicuro di non essere un robot? dimostramelo ma come? non era il test di Tewing non è al contrario adesso com'è che si sono girate queste carte? non ero io a chiedere piuttosto adesso invece è normale questa è una normale attività quotidiana in cui tu devi dimostrare di non essere un robot e va bene il mondo è cambiato però nessuno mi venga a dire che questa intelligenza artificiale è esattamente l'opposto è un divorzio allora per fortuna yes tu premi su non sono un robot e passi ho riflessione per quelli che hanno capito no, tutto in fondo vi rendete conto che questo test che è anche il test che noi facciamo a tutt'oggi viene fatto per assicurarsi che l'utente non sia un pezzo di software un software il che significa implicazione che oggi non abbiamo un software in grado di passarlo ve lo faccio rivedere cioè questo vuol dire che a tutt'oggi l'intelligenza artificiale che abbiamo oggi quella di cui parlano conquisterà il mondo siamo rovinati toglierà il lavoro a tutti è così non è in grado di dire ha un loro robot ma non perché la coscienza eccetera ma perché questa qua è una fotografia e quindi come fotografia si legge male c'è vari trucchi ora ma verrà che prima o poi sicuramente basta spostare però poi appunto il test allora in questo caso appunto per fortuna non sei un robot e passiamo all'altro elemento vi dicevo quali sono gli elementi che permettono l'intelligenza artificiale oggi elemento numero 3 questo è un po' più complicato ma viene bene con un po' di pazienza allora asse delle X lo sapevo che qui un po' di lavoro ci vuole è proprio gratis ricordate la strada reale per la geometria quella che quando Euclide dice mi dispiace non c'è una strada reale per arrivare alla geometria è tutta in salita ecco la filosofia un po' così ogni tanto allora mettiamo l'asse delle X e per gli informatici qui in sala intendo veramente la computazione quella la complessità computizionale che si studia a informatica non quella del giornalista di turno oddio quanto è complicato anche qua piccola parentesi fate attenzione quando qualcuno vi dice guardi questa cosa qui è veramente complessa con quell'aria con quel tono come dire Times Roman no sottolineato complessa con quel tono alla Gassman complessa o complicata perché se è complicata la cosa è colpa tua e non l'hai capita se è complessa è colpa sua che è complessa guardi professore è complessa è complessa è il problema dell'oggetto che è complesso non mio che non l'ho capito allora io ogni tanto lo chiedo scusa è complesso o complicato perché se è complicato vai a studiare se è complesso ci dobbiamo lavorare sopra eh no veramente era complicato ecco appunto vai a fare un po' allora questo parlo invece di vera complessità cioè di richiesta di risorse i problemi sono più o meno complessi se richiedono almeno due risorse quelli computazionali tanti passi per risolverli che vuol dire tempo e tanto spazio dove utilizzare la memoria per risolverli che vuol dire appunto memoria allora computazione in termini di quanti passi devo fare tempo e di quantità di memoria spazio spazio e tempo sono le due risorse che noi utilizziamo per determinare è come se noi avessimo uno zoo di problemi e questi problemi fossero degli animali che cosa mangiano noi li cataloghiamo sulla base della loro dieta in informatica le cataloghiamo sulla base delle risorse che mangiano per essere risolti se mangiano tanto tempo tanto spazio più tempo più spazio e c'è una cosa bellissima di cui non ci occupiamo oggi poi li mettiamo qua e passiamo per semplificare al massimo da semplice a complesso c'è tante risorse poi c'è l'asse delle Y da Cartesio in poi o tra l'altro Cartesio mi ricordo un filosofo poi ci sono invece le capacità le abilità gli skills e quelli non sono complessi quelli in realtà vanno da facile a difficile ma per esempio ecco per esempio accendere la luce qualcuno di voi prima o poi l'esperienza ce l'ha avuta si è rimasto nella stanza degli amici e c'è il ragazzino c'è cinque anni accende spinge ecco lui o lei è facile quanti passi richiede uno accende oppure spinge un passo solo quindi sta qui sotto è semplice e quanto è difficile e c'è cinque anni quanto vuoi che sia difficile anche un ragazzino di cinque anni accende e spenge la luce nevroticamente allora lo mettiamo qui sotto e allacciarsi le scarpe no quello è abbastanza poco complesso cioè è semplice però è difficile tanto per che io ancora mi ricordo da mamma che mi insegnava e a un certo punto pensavo proprio che non ci sarei mai riuscito un po' come allacciarsi il cinturino dell'orologio quelle cose che uno si è dimenticato ma qualcuno te l'ha insegnato mamma viene mamma ti insegna ad allacciarti le scarpe e dall'altra parte fare i piatti perché fare i piatti è complesso adesso questo banalizzando un po' gli informatici qua mi perdoneranno perché tanti più piatti ci sono e tanto più tempo ora la linearità qui è banalissima quindi niente di non lo studiamo informatica questo però vi dà un po' l'idea più aumentano i piatti più tempo ci vuole tante risorse però è facile come dice anche mia moglie anche un filosofo metti lì l'algoritmo è elementare prendi il piatto ci metti il sapone lo risciacqui perché sta in Italia se no l'inglese lo lascia col sapone c'è un algoritmo più corto ve lo ricordate? tutto il sapone che cola io ancora me lo ricordo guardi l'algoritmo italiano è più lungo ci vuole un passo ulteriore il risciacquo e poi lo metti qui asciughi prendi il piatto lo insaponi lo risciacqui lo asciughi uno due tre quattro uno due tre quattro e lì fai tutti i piatti non ci vuole niente l'algoritmo è elementare però tanti piatti tanta complessità e fare le camicie? no quello è diverso non è un due tre c'è un'arte molto più sofisticata è quello che io ricordo a mia moglie che lì ci vuole la neuroscienziata qualcuno ci pensa più allora in questo caso adesso che vi ho spiegato un po' che c'entra l'intelligenza artificiale non ve lo potevo dire all'inizio se non si sarebbe capito però adesso spero che si capisca l'intelligenza artificiale una delle ragioni per cui ce l'abbiamo è che siamo passati dal difficile al complesso eh? facile no? adesso si capisce cioè noi cerchiamo in tutti i modi in ogni caso in ogni angolo del mondo di trasformare qualcosa che richiederebbe grandissime abilità in qualcosa che richiede estraordinarie no risorse computazionali perché l'intelligenza artificiale mangia la computazione per colazione cioè ma ci sarà bisogno di gazillioni di dati ma che se ne importa ma ci vorranno ore di eh tanto sta là l'accento poi me ne vado ritorno col caffè allora questo è il mondo in cui noi viviamo fattore numero tre dal difficile al complesso tanto più sei in grado di fare questo tanto più nella tua azienda nella tua università cioè riuscirà ad applicare l'intelligenza artificiale o vi ricordo che a tutt'oggi mi pare che fosse il CEO della Nike o fuori dell'Adida non mi ricordo uno dei due ha detto se trovate le scarpe che comprate con i lacci infilati l'ha fatto un essere umano perché non abbiamo un robottino che oggi infila i lacci nelle scarpe è complicato sta qua su mica sta qui giù ho il robottino su Mars però ce l'abbiamo è quella computazione che ci vuole allora questo è il mondo in cui noi non vivremo perché questi qua colleghi di Madrid è bello bellissimo simpatico una cosa che adesso vi faccio vedere questo fa le camicie ricordate l'esempio che ho portato prima fare le camicie è difficile ma attenzione questa camicia l'abbiamo messa noi lì lui non la prende non è in grado e beh poverino ha un computer c'è un robottino poi quando ha finito la lascia lì ecco ma me la lascia lì adesso chi la mette via cioè questo qua è un metro e ottanta cioè è un certo c'è una certa presenza e tutta la stanza è organizzata per farlo funzionare non lo vedo in vendita domani va bene e fa solo quello non è che poi esce e guida pure l'auto no quello fa soltanto la camicia che hai messo lì la stira vabbè con tanta pazienza il fatto che ci si riesca straordinaria intelligenza degli ingegneri che ci sono riusciti quest'altro invece questa è in vendita poche migliaia di euro e ve lo portate a casa siccome il primo modello non consiglio l'acquisto aspettiamo due o tre modelli questo fa le camicie la mettete dentro e ve la sputa fatta che è successo la ricordate l'envelope l'abbiamo fatto la scatola intorno alle capacità molto elementari dell'attrezzo questo funziona quell'altro no allora questo è il mondo in cui noi vivremo non quello del robot che entra arriva guida quello è va bene stavos è bellissimo questo è il mondo in cui invece avremo veramente a che fare va bene allora in questo modo qua che altro serve dice ma è possibile ma allora quando giocano a scacchi quando giocano a go che c'entra è un'altra questione questa è la questione di regole qui le regole vanno da bisogna anche saperlo purtroppo in genere chi parla di queste cose non so perché ma parla di cose che non conosce bene succede allora non conosce la distinzione tra regole costitutive e regole che invece fanno da contorno cioè che vincolanti adesso sarà difficile no è banale è la differenza tra gli scacchi e il tennis il tennis tu intanto c'è un attrezzo con cui dà delle botte a una pallina poi ci mette delle regole intorno ma l'attività precede la regolamentazione tu intanto ti ricalci alla palla e giochi a pallone poi qualcuno a qualche parte generalmente in parrocchia dice no dai lì c'era la riga su e vai ci avevamo messo la bottiglietta e ti dite d'accordo cioè dopo le regole quelle che mettono un vincolo avvengono dopo le regole costitutive invece sono bellissime sono quelle senza le quali non esiste proprio il gioco non è che c'è una dama prima e dopo ci metti dopo le regole non è che giochi a scacchi e poi lo regoli o monopoli e poi lo regoli go e poi lo regoli ve lo ricordate questa cosa vi risuona dov'è che il computer riesce a vincere chiunque a scacchi a dama a go ma non sarà mica perché gioca con delle regole costitutive ops e quando le regole invece sono quelle di tipo vincolante e no lì è come allacciarsi le scarpe è complicato è difficile allora in questo caso noi tanto più riusciremo a trasformare giochi nel senso di attività regolamentate da giochi che sono di tipo vincolante a giochi di tipo costitutivo tanto più l'intelligenza artificiale riuscirà ad avere successo perché gioca in casa spero che la battuta abbia senso ma ad esempio nella diagnosi nella diagnosi dei tumori del cervello un lavoro bellissimo che sta facendo anche durante un italiano Microsoft Cambridge di nuovo Cambridge noi non abbiamo delle regole costitutive non è che noi conosciamo la natura talmente bene da sapere come la natura fa un tumore del cervello esattamente come quando giochiamo a scacchi no intanto la natura fa quello che gli pare poi noi cerchiamo di capire attraverso le leggi naturali più o meno ma le nostre regole le nostre leggi diciamo scientifiche si approssimano più o meno non posso giocare con quelle regole e capire come funziona prima capisco come funziona e poi capisco le regole allora in quel caso quanto si potrà simulare beh ci vorrà sempre un po' di dati cosiddetti storici e qui arriviamo al quinto punto i dati storici stanno qui giù sono quelli che tu hai raccolto tanto tempo fa quando si giocava a scacchi tu prima buttavi dentro la macchina tante partite di scacchi giocate da chiunque e poi gli dicevi senti se una di queste partite ti risulta si vince così poi ci mettevi dentro un po' di algoritmi e da deep blue in poi no si vince a scacchi ma oggi alpha go zero non gioca più in quel modo i dati se li crea da solo sta qua sono dati sintetici ma come fa a crearsi da solo gioca contro se stesso come fa a giocare contro se stesso gioca a secondo delle regole che regole quelle costitutive si può creare un attrezzo che giochi contro se stesso e ricrei ad esempio tutte le varietà di tipi di tumore al cervello in modo tale che poi con quei dati sintetici no perché? perché sono regole costitutive non sono vincolanti in quel caso dobbiamo chiedere a madre natura e allora abbiamo altri vincoli e altri problemi allora è impossibile non ho detto così ho detto simplemente che tanto più si passa da qui a qui tanto più l'intelligenza artificiale funziona bene a questo punto avete capito che siano tante cose oggi la statistica enveloping dal difficile al complesso dalle regole che sono di tipo generativo costitutivo a regole invece che sono vincolanti e i dati sintetici tanto più questo aumenta tanto più la caffettina di nonno che chiamiamo appunto intelligenza artificiale sarà in grado di avere successo tanto meno tanto peggio come andrà a finire dipende da questo ciclo o questo ciclo o l'altro si influenza uno con l'altro ma attenzione appunto a dire oddio intelligente no vi ricordate non riuscivo a capire se era l'auto o il parcheggio no che entrava l'uno nell'altro allora benissimo abbiamo visto un po' la parte più complicata adesso tutto questo questo divorzio ci genera molti problemi e adesso ve li riassumo in maniera un po' veloce ma so che li vedete anche personalmente quindi permettetemi qualche generalizzazione questo è il lavoro che abbiamo fatto con AI for Pivo che è stato un bellissimo gruppo di ricerca che abbiamo in parte completato in parte sta ancora continuando a Bruxelles e che ha poi influenzato diciamo nel senso buono del termine il lavoro della Commissione Europea dove sta lavorando io sono uno dei membri anche lì il high level group di esperti sull'intelligenza artificiale e la sua etica che poi ha influenzato la OECD che poi ha influenzato i principi di Beijing su questo ci ritorno insomma c'è tutto un andamento di regolamentazione framework per dire ma che ci facciamo con questa intelligenza artificiale adesso che abbiamo capito almeno sottoscritto che intelligente non è ma artificiale tanto e potrebbe combinare un mucchio di guai perché è stupida e quello che abbiamo fatto è riassumere un po' il bello il buono e l'ambiguo allora qui velocemente usata bene l'intelligenza artificiale ci permetterebbe di aumentare la nostra autorealizzazione cioè ci potrebbe permettere di essere un pochino migliori poi ci potrebbe permettere di agire meglio di darci più potenza di fare molto di più molto meglio in maniera più efficace poi anche da un punto sociale potrebbe veramente mettere insieme un po' di cose ad esempio tutta questa ineguaglianza per esempio l'intelligenza artificiale è tassazione si potrebbe fare un bel lavoro insomma c'è un giorno che si scatena e poi un po' più di coesione sociale ci sono degli esempi bellissimi in cui l'intelligenza artificiale è stata utilizzata non per litigare ma per mettersi d'accordo quindi si può fare questa è la parte verde poi però dall'altra parte proprio il verso della medaglia è tutta quella rossa qui di nuovo sono invece i problemi che sentiamo tutti i giorni quando usiamo troppo o male usiamo l'intelligenza artificiale allora svalutiamo gli skills umani rimuoviamo la responsabilità umana riduciamo il controllo umano e c'è una certa erosione della nostra autodeterminazione ritorno su questo quindi non dovete memorizzare non è che ci sarà poi un'interrogazione dopo qual è la tabellina un elemento che in genere viene poco sottolineato è quello che si chiama tra economisti quelli dei costi di opportunità gli opportuni di cost cioè le cose che noi avremmo potuto fare ma non abbiamo fatto perché ci abbiamo avuto paura questo è molto comune oggi in tutto il settore della medicina sicuramente in Gran Bretagna molto avanzato su questi temi il National Health Service cioè l'istituzione che si preoccupa della salute del pubblico e non sta facendo certe cose perché manca un framework una legislazione una certa chiarezza sul fatto che sia fatto bene o male e vi ricordo che questo per i manager nella sala la regola è semplice se faccio una cosa fatta bene non mi dice grazie a nessuno se faccio una cosa fatta male mi mettono in croce che faccio? niente semplice no? cioè questa è la regola per cui ogni burocrazia non si muove mai no fatto bene ci mancherebbe fatto male in croce stallo completo ed è così anche l'intelligenza artificiale oggi in termini di costi di opportunità allora a questo punto qualcuno se ne esce sempre eh sì però qui come facciamo metterci d'accordo ci sono tante etiche e purtroppo ethics in inglese c'ha la S finale e non vi posso dire quanti meetings sono state dove c'è l'esperto o l'esperta tra virgolette che dice ethics are uno non sai l'inglese due ethics is ma ethics is nel senso di singolare l'etiche è vero che siamo in disaccordo su tante cose ma il più delle volte siamo in disaccordo del perché stanno così le cose non che stanno così semplifico un po' perché non è proprio in questo modo ma che ad esempio su certe cose un po' semplici tipo no child pornography la pornografia con i bambini ora si può discutere mille ragioni del perché sia una cosa sbagliata ma il primo che dice no veramente secondo la mia etica fuori subito via allora sull'etica io sarei un po' diciamo tollerante nel senso che quando hai ragione aspetti che l'altro cambi idea gentilmente ma non va bene che ci sono anche idee diverse su questo ora gender balance esempio su come ci si veste su quello che bisogna fare su quale parti del corpo amputare oppure no ecco su queste cose io ci avrei l'idea che noi in certo modo da qualche parte l'abbiamo vista giusta se poi altre culture altre società la vedono diversamente uno deve essere tollerante aspettare che cambi l'idea tutto qua allora l'ethics is ma è proprio così di che etica stiamo parlando qua adesso poi torniamo sull'intelligenza artificiale l'etica di cui stiamo parlando non è quella che ci insegnava nonna o meglio mamma non correre in corridoio con le forbici io ancora me lo ricordo perché uno deve sempre correre in corridoio con le forbici lo so pur io non si fa poi finalmente se è grande e corri in corridoio con le forbici e chi se ne frega no non è quella lì l'etica quella lì che poi insegniamo anche all'università corso 1, 2, 3 etica 1 è quella che si chiama terminologia mia ma insomma possiamo condividerla l'etica dura quella che periat mundus come la diceva Kant cioè se le cose sono giuste così se poi la legge non è d'accordo tanto peggio per la legge in Sudafrica apartheid l'approccio etico era quello di dire è sbagliato ma è la legge chi se ne frega della legge noi sono 75 anni più o meno che abbiamo passato quel periodo ma sta dietro l'angolo mia madre ancora se lo ricorda dove c'era la legge che diceva che era così e pare che qualcuno se lo sia anche scordato non so se ho visto certa gente a Verona ecco appunto allora quella legge lì per fortuna noi non ce l'abbiamo più e la etica dura non è quella di cui stiamo parlando qua quella di cui stiamo parlando qui è l'etica diciamo gentile morbida soft in che senso nel senso che vi ho spiegato qua in maniera molto veloce è un'etica che presuppone i diritti umani non li mette in discussione ci mancherebbe ma presuppone soprattutto l'essere in compliance cioè a regola con la legge tu non puoi andare da un'azienda qualsiasi dire guardi lei dovrebbe avere un atteggiamento duro nei confronti del giri piere lo rigetti mi serviva un consiglio non una scemenza giri piere per chi non abbia avuto il piacere di essere esposta o esposta general data protection regulation dati privati eccetera no tu vai in un'azienda e dici va bene noi facciamo la compliance abbiamo una palazzina piena di avvocati che fa compliance dobbiamo fare altro c'è di più oppure basta allora a questo punto tu devi spiegare guardi c'è la soft ethics è importante ci sono tante cose che si possono fare che aumentano nel tempo devi rispettare i diritti umani questo è il primo vincolo devi rispettare la legge del tuo paese se è una legge decente e ci si aspetta che in Europa la legge sia più o meno decente in altri paesi non è così e quindi devi fare l'etica dura ma in Europa ti puoi permettere di fare l'etica morbida soffice a quel punto la risposta dell'avvocato di turno è basta la legge non basta la legge ma come allora esempio vi ho ricordato le regole il calcio tu non puoi giocare al calcio senza seguire le regole se non seguire le regole prendi anche il cartellino compliance ma fare compliance non vuol dire vincere perché altrimenti io sarei un grande giocatore di tennis cioè non basta giocare secondo le regole per vincere per vincere ci vuole una strategia e qual è la strategia? si chiama soft ethics cioè il di più l'extra la parte ulteriore che ti permette di fare non soltanto il necessario ma anche il sufficiente qua c'è molto da discutere ad esempio ecco questa qua è quello che abbiamo fatto negli scorsi anni questo l'abbiamo pubblicato adesso con un mio studente bravissimo Josh Cowles sul Harvard Science Review questi sono tutti i più importanti non sono ce ne sono almeno un'ottantina di quadri etici per l'intelligenza artificiale questi sono però i più importanti da quello della House of Lords che abbiamo fatto nel UK fino a quello che hanno fatto i cinesi recentemente in cui abbiamo mostrato che in realtà sono tutti basati su cinque principi fondamentali di cui quattro vengono dall'etica applicata perché poi alla fine infine insomma è lì che ci sono venticinque secoli di lavoro non è che proprio bisogna inventarsi la mattina oddio c'è l'etica che facciamo notare che ce n'è uno in più che è quello della spiegazione magari ne parliamo un'altra volta però questi attrezzi non basta l'etica applicata come l'abbiamo fatta nell'etica medica nella bioetica nell'etica ambientalista perché abbiamo delle macchine vi ricordate in cui la agentità la capacità di agire si è scollata dall'intelligenza e quello crea un problema di spiegazione ma come funzionano questi attrezzi per un'altra volta il problema successivo invece che dobbiamo attraversare oggi è va bene allora ho capito grosso modo fermiamoci un attimo c'è l'intelligenza artificiale è un divorzio la capacità di agire se ne sta andando per conto suo l'intelligenza da un altro questo divorzio genera dei problemi che adesso vedremo qualcuno ha cominciato a mettere un quadro teorico intorno a questi problemi tanta gente ma si sono più o meno messi d'accordo stanno convergendo e a questo punto come facciamo a tradurre questi problemi da una parte e questi quadri teorici dall'altra in qualcosa che funziona questa traduzione come avviene e qui vediamo cinque sfide ora vi ricordate quando scherzavo a proposi di Cambridge cinque dita è uguale contiamo nello stesso modo pure noi abbiamo cinque dita anche noi facciamo sempre il cinque quindi adesso vi ho fatto vedere le cinque ragioni per cui l'intelligenza artificiale sviluppa le cinque sfide attraverso le quali dovremo passare allora la prima è che dovremmo assicurarci che l'intelligenza artificiale funzioni contro il far male cioè le cose che non bisogna fare i primi quattro ve li faccio veloci perché vorrei soffermarmi sul quinto che è quello sul lavoro quindi permettemi di essere un pochino diciamo superficiale più del solito e la sfida qua è che il digitale nel senso ampio e l'intelligenza artificiale nel senso specifico ha reso tutti vulnerabili che è una cosa simpatica nel senso non è più vero che il ricco è meno vulnerabile del povero perché quando qualcuno ha rubato tutti i dati alla British Airways di tutti i biglietti non ha importanza che tu avessi il biglietto di prima classe o avessi comprato quello scontato quelli hanno rubato tutti i dati e adesso stanno lì a fare il tuo profiling l'intelligenza artificiale non guarda quando stacca la luce di tutta la città se poi c'era attaccato quello con l'appartamentino in centro oppure il poveretto insomma c'è una generale vulnerabilità che dovremmo tenere da conto poi dovrebbe aiutarci a prendere decisioni e a controllare meglio il mondo su questo c'è molto da fare perché qui il mondo non diventa ricordo complesso non complicato proprio complesso cioè richiederà sempre più risorse di tempo e di spazio cioè di computazione e di memoria per essere gestito e non sto parlando della raccolta di rifiuti a Roma che già sarebbe un miracolo ma il fatto che si vivrà in città sempre più grandi enormi allora a vecini quando stavo letteralmente due giorni fa lì mi hanno detto che sono 22 milioni che sono tanti io adesso vado un po' a occhio controlliamo anche su google non me lo ricordo però più o meno a spanne mi sa che è Svezia Norvegia Finlandia messe insieme saranno 6-7 milioni per nazione in una città sola complicato gestirla allora la complessità qua l'intelligenza è bene che ci lavori a favore cioè che questi muscoli noi questa capacità di agire la gettiamo a risolvere problemi che il mondo troverà sempre più complessi poi deve essere a supporto della nostra responsabilità non può essere deresponsabilizzante allora questo qua chiunque ha lavorato in ufficio prima o poi la rispostina guardi è stato il computer ce l'è beccata cioè io questo è il classico almeno a casa mia a Oxford il professore ma scusi ma questa cosa qui la dead è il computer purtroppo è il computer allora in questo caso qua la responsabilità però più grossa che abbiamo ovviamente è verso l'ambiente e non è immaginabile oggi che queste due cose viaggino indipendentemente l'intelligenza artificiale digitale da una parte e no la distruzione o il salvataggio dell'ambiente dall'altra su questo ci ritorno perché è forse la cosa più importante che vorrei sottolineare oggi quindi anche qua la cura per il mondo sicuramente è una delle sfide dell'intelligenza artificiale del domani poi dovrebbe renderci più umani perché la nostra autonomia è costantemente erosa da questi macchinari vi racconterò appunto una cosa forse un po' personale ma io l'ho letti tutti quelli di Harry Potter l'ho raccontato già una volta ma perché perché ti è piaciuto questo potrebbe piacerti anche quest'altro tu non sai sei maleabile sei intelligente sei aperto ma ho sbagliato l'apertura mentale leggi tutto quello che ti ha detto Amazon leggi uno leggi due leggi tre quanto Harry Potter puoi leggere nella vita anche perché vi ricordo opportunità di costo non hai letto altro hai letto quello e il tempo è finito lo ricordo un po' a tutti in un momento filosofico qua che siamo tutti mortali eccetera eccetera ecco quindi tutte quelle ore che se ne sono andate e va bene pazienza ti sei anche divertita divertito però qualcuno da qualche parte quelli che sono appunto i cosiddetti recommend the systems quanto Netflix abbiamo consumato perché ci aveva detto che quel film ci sarebbe piaciuto avendo visto quell'altro allora in questa versione bisogna fare attenzione non c'è nessuno che abbia dietro un disegno come dire malevole ma l'intelligenza artificiale è lì robusta sempre continua allora non bisogna avere l'illusione della pietra che essendo colpita dalla goccia dell'acqua dice ma pazienza eh lo sapete che succede a quella pietra gocciolina dopo gocciolina dopo gocciolina c'è un buco così alla fine allora il povero Peter Giovanni Maria Assuntina che è nato oggi e che no a 18 anni tutti i giorni tutte le settimane tutti gli anni della sua vita ha sentito ti è piaciuto questo sei sicuro sei sicuro cioè alla fine è sempre andato al lago ha sempre letto tutto Harry Potter ha visto soltanto science fiction su Netflix perché perché c'era quella cosa lì che gentilmente allora attenzione perché l'autonomia è leggermente a rischio poi dovrebbe lavorare per noi per l'umanità e su questo mi soffermo più a più a lungo perché dei 5 punti ho pensato almeno uno ve lo faccio un po' più approfondito gli altri allora qua il lavoro quanta volta avete sentito ci rubano il lavoro e non è soltanto quelli di Verona ci rubano il lavoro qualcuno ruba sempre il lavoro a parte lavori schifosi che non vuole fare nessuno li rubassero pure ma anytime proprio ma non è vero non è vero allora adesso vi faccio vedere perché non è vero queste sono velocemente lo trovate ovunque un po' di statistiche che sono state tirate fuori da varie aziende istituti cioè su quanti lavori saranno distrutti dall'intelligenza artificiale ora come vedete c'è una cosa peculiare in questa mappa non si mettono d'accordo stanno da tutto come si dice in inglese all of the place da qui giù a qui su il che vuol dire che non lo sanno perché se qualcuno si sente ma quante persone ci sono al mondo sarebbero tutti sullo stesso punto più o meno un miliardo o più questo qui è una distribuzione tale che se lo studente te la presenta lo rimandi a fare i compiti dici vabbè questo sta ovunque è come dire hai tirato la monetina e infatti funziona così cioè tiri la monetina quando sei una grande azienda che deve fare una di queste investigazioni così chiami mille persone normalmente hai le tue mille persone nella banca dati e chiedi secondo te l'intelligenza artificiale distruggerà quanti milioni di posti di lavoro in quanti anni boh che ne so fai 10 entro il 2020 e butti lì allora non lo sanno perché ci sono due errori fondamentali qua dice possibile c'è il filosofo arrogante di Oxford io poi lascerò a voi la decisione spero appunto di convincervi il primo errore è pensare che il lavoro sia una cosa finita come una torta per cui se tu mi porti via una fetta c'è una fetta che è meno per me a me non piace ci rubano il lavoro non è così il lavoro non è finito basta ricordarsi di quello che succede la domenica quando pulisci casa smetti perché non c'è più tempo perché hai finito i soldi perché hai finito l'energia ma non perché non c'è altro da pulire perché c'è sempre l'argenteria da nonna il tappeto il gatto qualunque cosa allora tira una riga ma non è finito il lavoro dice beh allora però scusi qui c'è qualcosa non torna perché si è infinito allora c'è lavoro per tutti no perché c'è un vincolo del valore economico del lavoro svolto quello sì questo qua di quello che è economically viable cioè che vale la pena fare da un punto di vista economico quello è un vincolo ma è esattamente il vincolo che la tecnologia sposta di volta in volta cioè mentre ieri non valeva la pena non c'era abbastanza per farsi portare la pizza a casa oggi con molte cose da discutere non in questa stanza non oggi diventa economically viable allora non è una torta e il vincolo viene constantemente spostato allora se tu sei un riccone a Oxford che hai un bel parco ti compri un robottino che taglia l'erba perché così il giardiniere adesso si cura delle rose ma le rose prima non le poteva fare no perché doveva tagliare l'erba abbiamo spostato il livello il robottino oggi taglia l'erba e le rose se ne occupa il giardiniere è proprio così è abbastanza allora un po' di dati alla mano così parliamo di cose serie questa è l'ultimo l'ultima analisi della American Truck Association cioè quelli dei camionisti sostanzialmente negli Stati Uniti che lavora molto su ruota come sapete e questo qua spero che anche per voi che siete più distanti sia illuminante come grafico considerate questo è 2018 e questo è 2019 quindi questi sono dati del 2015 quindi stavamo già qui i fatti erano queste queste sono proiezioni la proiezione per il 2022 è che ci saranno circa 240.000 posti di lavoro mancanti cioè non riempiti di camioniste e camionisti che non ci sono perché? perché qualcuno ha raccontato la storia che ci sarebbero state le driver's cars e che quindi non bisogna fare il camionista che sei matto a che serve? no domani il camion lo porta lo porta al driver's cars cioè tutto tutto guerra stellari il camionista non porta soltanto il camion da qui e lì apre il cancello ops e adesso il cancello come faccio? magari controlla se le uova si sono rotte perché quella buca boom boom è strano oppure magari c'è qualcuno dentro come è successo in Gran Bretagna e sono tutti morti magari apriva la porta e così via riempie il modulo insomma ci sono tanti skills tante capacità che vanno intorno a questo lavoro non basta semplicemente guidare da A a B ecco allora il mondo non è proprio fatto in questo modo ma siamo proprio sicuri questo è un altro grafico sull'industria automobilistica in America questi sono i posti di lavoro di quelli che lavorano nella produzione delle automobili Detroit e tutto il resto vi ricordate questa è stata la grande crisi e questo è dove stiamo oggi e stiamo leggermente da queste parti qua grosso modo si è ripresa se sono i posti di lavoro allora l'ultima volta che stavamo all'Audi a discutere di queste cose mi diceva appunto il CEO da quelle parti guarda Luciano che adesso da mo' che noi abbiamo eliminato tutti i posti di lavoro che potevamo eliminare ma mica l'abbiamo cominciato oggi ve lo ricordate la Fiat la realtà è che oggi ogni volta che introduciamo un robottino dobbiamo prendere un ingegnere la cosa non è tutta rosia ma è un po' più complicata va bene allora la prossima volta che leggete ci rubano il lavoro attenzione questo è un esempio più concreto questo è Sainsbury una delle grandi catene di supermercato in Gran Bretagna la data è troppo piccola per alcuni di voi 29 aprile 2019 un negozio totalmente automatizzato dice bello finisce questo è il mondo questo è il mondo del domani questo è il 10 settembre 2019 ha chiuso perché ma chi c'ha voglia di andare lì scannerizzare faccio tutto io ma non è possibile non c'è un cristiano che può prendere un lavoro e mi scannerizza lui la scatola di fagioli ma devo fare sempre tutto io allora attenzione perché tante cose di questa intelligenza artificiale è semplicemente uno spostamento da chi faceva qualcosa adesso lo fai tu è chiaro? cioè un tempo c'era qualcuno che ti faceva il biglietto andava in agenzia adesso ti devi addestrare tu vai su tripad by cioè tutto un fai da te ecco il fai da te non vuol dire l'intelligenza artificiale ti ha tolto il lavoro la si mette spostata su spalle altrui oggi io li scanalizzo sempre io i fagioli al supermercato perché ormai così come appunto la benzina nell'auto l'abitudine di averci qualcuno che ti dà una mano ecco questo è un mondo in cui siamo allora va tutto bene non va tutto bene questa era Lloyd un po' di tempo fa l'anno scorso e ha mandato a casa 6.240 e ne ha prese di persone 8.240 bellissimo o 2.000 persone in più questo è il mondo che mi piace non è così il filosofo è sempre uno che guarda le cose da due parti in senso attenzione perché non è così perché gli 8.240 che ha preso la Lloyd non sono gli 6.240 che ha mandato a casa questo è il guaio cioè quelli che manda a casa restano a casa i nuovi li prendi perché sanno questo sanno quell'altro sono digitali sono nativi sono quello che volete ma non sono gli stessi vecchioni come il sottoscritto che non sanno più niente da rottamare allora questo è il problema il problema non è tanto ci portano via il lavoro è che qualcuno qui sta pagando la transizione ad un mondo che sarà più produttivo più efficace magari guadagneremo oltre di più ma questa transizione resta come si direbbe a Roma il cerino in mano a questa generazione allora la soluzione qui a essere un po' semplice è spalmare i vantaggi futuri anche sul presente significa la stazione e prendere in prestito al futuro non è che ci sono tante soluzioni dov'è che i lavori spariranno? qua nelle interfacce cioè questo signore non c'è più perché in America a un certo punto bisogna avere un patentino per utilizzare una macchina che si chiamava ascensore se non avevi il patentino non potevi operare hanno tolto la legislazione e oggi chi è che spinge quello? sei tu che spingi i pulsantini a meno che non sei in Giappone perché lì c'è ancora uno con i guanti bianchi che trova per lui la signorina qua è facile che spalissi è un'interfaccia tra un'auto e un GPS è un po' strano avere un cervello umano che faccia questo lavoro oppure questo qui è ancora meglio questo è bellissimo questo è un guaio che abbiamo fatto noi nel mondo automobilistico abbiamo deciso che la cosa migliore da fare era creare delle automobili che andavano rifornite avendo come interfaccia un cervello umano che prende la mette dentro e lo rimette a posto o ci sono più di un miliardo di auto al mondo quindi fate conto che facciano benzina non lo so una volta alla settimana una volta al mese e che ci voglia un'oretta in tutto tra fare cose sono miliardi di ore in cui gli esseri umani prendono lo mettono dentro e lo rimettono a posto e quanto ci voleva averci un design un po' più intelligente oggi ci abbiamo robotini su Mart ma questo lavoro non lo può fare nessun altro se non un essere umano neanche una scimmia ci vuoi mettere lì è strano no? adesso guardate un po' le auto elettriche non sarà mica che adesso prendo la cosa la metto dentro e la rimetto a posto perché questo è il design è esattamente il design che abbiamo oggi almeno mio fratello gira con la Tesla la prende la mette e la rimette a posto allora in questo caso qua queste interfacce spariranno altre però sorgeranno cioè il lavoro del domani molti saranno di interfacciazione interfacciamento tra cose complicate da una parte e cose complicate dall'altra allora tutto questo non quindi una visione erosia del futuro ma un mondo in cui non è che c'è la fine del lavoro ma c'è la fine di alcune abilità sì alcune non serviranno più io non so ferrare un cavallo e non me ne frega niente sinceramente ah isto non so ferrare il cavallo e vabbè pazienza so ancora cambiare una ruota ma se non sapessi farlo non ne sarei proprio addolorato ecco in questo caso ci saranno le abilità che spariranno diciamo ah alla fine google ci rende tutti più scemi l'avete letta questa cosa ma no non è vero cioè cambia gli skills in questione io ho i miei studenti che sanno fare delle cose straordinarie ad esempio sanno lavorare con python che qualcuno di voi cioè un linguaggio di programmazione molto molto semplice tutta wikipedia è fatta su python e che ai tempi meno non era l'abilità proprio quella banale in cui tu in realtà sapevi no quindi rimettere a posto il nastro delle cassette allora altri skills diversi business model cioè la uberizzazione di certe cose anche se uber ormai sta andando a gambe levate è dietro l'angolo che il lavoro sia proprio il job cioè che occupazione e lavoro siano la stessa cosa una cosa molto novecentesca molto bella ma che forse non funzionerà più che tanti lavori tante attività cambi lavoro fai cose part time poi rientri poi rifai flessibilità questo è facile e soprattutto che nella nostra identità non sia più il lavoro che faccio cioè io sul cartellino c'è una cosa la business card c'è scritto fare professore allora tu chi sei? faccio professore ma io sono tante altre vorrei anche essere tante cose anche essere uno che gioca a squash ad esempio piacerebbe invece no il novecento ci ha insegnato che noi siamo il nostro lavoro tant'è vero che quando vuoi vare in pensione non sei più nessuno che faccio io? non è così allora sicuramente molte cose sono a rischio c'è molta disruption è molto più una questione di velocità che di tipo di disruption l'impatto i costi sono presenti i benefici sono futuri quindi bisogna spalmare bisogna minimizzare questo impatto con un po' di impatto sociale buono i benefici potrebbero essere appunto una cosa come universal basic capital cioè un prestito o cose del genere come facciamo agli studenti gli prestiamo i soldi poi quando torna un lavoro ce li ridanno così fanno funzioniamo a Oxford più tassazione e soprattutto imparare la lingua dell'informazione che potrebbe essere la musica non è necessariamente l'informatica su questo noi parleremo un'altra volta torniamo a noi e ci siamo quasi arrivati ormai la pazienza so che sta per essere esaurita ma allora fin qui che abbiamo visto poco eh nel senso l'ho fatta a lunga però le idee sono poche uno c'è una cosa che si chiama intelligenza artificiale c'ha più di 50 anni e ho cercato di convincervi che è un divorzio piuttosto che un matrimonio due se è un divorzio è una cosa brutta è peccato infatti crea un sacco di problemi ve ne ho fatti vedere cinque e vi ho fatto anche vedere un po' come questo divorzio potrà svilupparsi perché un divorzio funziona come mai delle robe così stupide se c'ha ragione questo professore che viene da Oxford funzionano è un po' strano no ci sono cinque ragioni che vi ho fatto vedere l'enveloping la statistica e tutto il resto il divorzio crea quelle questioni che abbiamo visto che sono cinque ho fatto un po' delle categorie molto ampie e come si fa a mettere tutto questo qua insieme allora abbiamo un divorzio le ragioni per cui il divorzio funziona i problemi generali dal divorzio e un po' da mettere tutto questo insieme si chiama governance cioè oggi e lo ripeterò la vera sfida non è l'innovazione digitale chi sentite oggi al governo proprio non ne sanno niente non sono proprio arrivati nel ventunesimo secolo ma se ne senti parlare qualcuno di queste cose ogni tanto per sbaglio perché è incappato magari una rivista o qualcosa e comincia a parlarne subito capisce che ci vuole innovazione il problema è l'innovazione non è l'innovazione gli devi anche dire guarda essendo arrivato tardi cerca di saltare subito alla fine è inutile che cerchi di recuperare dalla stagione dell'anno prossimo dell'anno successivo perché non è l'innovazione perché l'innovazione oggi si fa molto facilmente costa poco e le grandi aziende soprattutto la fanno acquistando piccole aziende la vera sfida oggi è la governance cioè non tanto come si rinnova con il digitale ma che ci facciamo con questa innovazione da che parte vogliamo andare in che direzione vogliamo muoverci e qui sinceramente un po' di filosofia ci vuole allora questa governance e qui recupero non la rivista che normalmente è patinata che trovi sull'aereo no, nota all'altra ogni tanto mi chiedo che fanno i manager dalla mattina alla sera perché stanno sempre lì abbronzato che va verso il mare ma lavorerà pure per comprarsi quella barca no questo qua ogni tanto stanno sempre in mare a andare a veleggiare allora non è così in realtà la metafora è di Platone va bene allora Platone ci dice tanto tempo fa che il buon governante è come un ciberneta kibernetis cioè come il pilota della barca e la parola è kibernetis dalla quale poi verrà dopo molto dopo la parola cibernetica cioè sistema di guida il ciberneta cosa fa? sa dove vuole andare conosce le maree conosce i venti conosce la barca e poi arriva a compromessi magari va a destra o a sinistra sopra sotto deve magari anche andare un po' indietro per andare avanti ma alla fine arriva nel posto giusto cioè sa guidare la direzione giusta allora la loro sfida non è tanto come dicevo l'innovazione tecnologica quanto la governance del digitale cioè sapere bene dove si vuole andare per fare questo ci vuole un progetto cioè tu non è che vabbè adesso vado di porta brutto libro no vado di porta il cervello che cuore pensaci sopra allora il ciberneta ci pensa ha una mappa ha una sua direzionalità e grazie alle sue competenze e alla sua abilità anche di fare consenso riesce a muoversi nella direzione giusta e quindi a governare anche questo digitale intelligenza artificiale incluse va bene ma in questo caso qua qual è il progetto questo è un argomento che torneremo soltanto velocemente e poi ci torneremo un'altra volta non oggi ma capite e stiamo arrivando verso la fine quindi resistete ancora cinque minuti a monte di tutto questo ci vuole un disegno nel senso di design non di acquarelli cioè il design oggi è quello che fa la differenza cioè quando si parla di innovazione a volte la facciamo attraverso le scoperte a volte la facciamo attraverso l'invenzione a volte la facciamo attraverso il design l'innovazione è tutto è uno sgabbello ma di questo sgabbello l'ho trovata questa bella figurina qui una gamba è più avanti in che senso nel senso che ci sono le epoche delle grandi scoperte le epoche delle grandi invenzioni e oggi oggi è l'epoca del design allora è banale pensare che dietro l'iPhone ci sia scritto dove lo fanno non lo fanno design in California è lì che fa la differenza è anche un appigliamento intimo Calvin Klein per essere precisi il design quindi è quello che fa la differenza il design del progetto per avere la governance di tutta questa roba che deve essere messa in riga e qua ecco qua due minuti sul design per capire poi perché questa cosa qui è sbagliata piccolo riassuntino abbiamo una grande forza di forza tutta questa capacità di agire la dobbiamo gettare dalla parte giusta per risolvere i problemi che abbiamo che ce ne abbiamo tanti non ci preoccupiamo che diventi intelligente perché ve l'ho detto caffettiera di nonna però è una potente caffettiera questa qua è come l'elettricità ci potrebbe risolvere tanti problemi quali? ne abbiamo visti 5 continuare a crescere? sì altre 5 ragioni va bene e come la mettiamo insieme tutta questa cosa qua? cioè quale disegno di governance vogliamo fare per mandare tutto in una direzione giusta? Platone e tutto il resto in che modo? allora qui arriva subito un problema il problema del design messo male lì è che la gente pensa anche i più furbini che ci sia soltanto un design questo lo diceva Aristotele Platone capite che sto dalla parte sua Aristotele un po' meno poi i filosofi si dividono sempre così chi sta con Platone chi sta con Aristotele chi sta con Kant chi sta con Hegel poi alla fine è sempre un po' una partita a due allora da platonico kantiano e cartesiano Aristotele ha detto una sciocchezza tanto tempo fa Aristotele ci racconta che per avere successo nel design ad esempio è come giocare a freccette il centro è uno solo ci puoi azzeccare soltanto una volta a sbagliare basta dire da un'altra parte è l'infinito ovunque allora da Aristotele in poi abbiamo quello che ha qualcuno che è sempre furbino perché fa figo c'è citito Stoi e qualcuno si è inventato la AK principle l'Anna Karenina principle che è una scemenza senza fine lo trovate su Wikipedia così vedete anche chi l'ha detto sembra brutto qui accusare il collega allora perché perché Anna Karenina parte così tutte le famiglie felici sono simili tra loro centro Aristotele ogni famiglia infelice è infelice a modo suo a sbagliare c'è tutto l'universo a farci centro uno solo allora la felicità è una sola l'infelicità è tutto il resto e ci sono infelici in tutti i modi diversi allora questo ho traduzione Garzanti noi Einaudi che fa un pasticcio qua l'ho letto non che io sappia il russo però mi sono fidato di chi lo sa Einaudi cancella la rifletizione perché qualcuno lì deve aver pensato come al liceo non si ripetono le parole allora ha corretto Tolstoi e non gli fa dire è infelice ma fa un pasticcio tremendo allora torniamo alla traduzione Garzanti e dice guarda che a fare centro sulla felicità uno solo come si dice l'occhio di bugue non è un bull's eye infelice tanti modi diversi non è così come non è così non è così perché in realtà e questo appunto è il principio è come dire guarda per disegnare un buon progetto di una società che è in grado di gestire l'intelligenza artificiale per risolvere tanti problemi e così via c'è un modo solo o lo azzecchi o sei fregato e ti viene la paura c'è accidenti è come vincere la lotteria allora quando ci riusciremo ma per fortuna non è così ci sono tanti modi diversi per avere successo sicuro? ecco quanti modi ci sono per fare una sedia? tanti ma proprio tanti sono tutte sedie eppure sono tutte diverse e tutte hanno successo a seconda appunto dei desideri del materiale del comfort allora quanti modi ci sono di risolvere queste equazioni per quelli un pochino con un grammo di matematica cioè infiniti questa equazioncina qua ha infinite soluzioni anche in matematica infinite soluzioni sì tutte che funzionano allora tutte quelle sedie sono sedie tutte queste cose che funzionano che c'è dietro? non c'è Aristotele non c'è Tostoi non c'è il furbino che fanno l'AK Principle in realtà c'è un italiano che si chiama Pareto che è molto più bravo ma molto più bravo questo lezioncina veloce veloce questo è la frontiera di Pareto in che senso? allora ci sta Luciano e sua moglie che si chiama Chia Chia e Luciano hanno un giardinetto e Luciano vuole i vegetables facciamo Chia perché a me i vegetables non mi piacciono gli ortaggi e io invece voglio fare i fiori anche un po' più gender equal questa cosa allora quanti modi ci sono per sbagliare nel fare il giardinetto di fiori e insalata? tantissimi stanno tutti qui dentro ma come per ottimizzare la quantità di fiori e di insalata nel giardinetto quanti ce ne sono? infiniti ci sta C e ci sta B e tutti punti sulla frontiera di Pareto allora tu capisci che il design è una frontiera di Pareto ci sono tanti e infatti infiniti modi per azzeccarci Aristotele aveva torto tosto aveva torto i furbini che parlano dell'AK principle hanno torto la policy cioè la governance non si fa in un modo solo ci sono tanti modi per farla bene ovviamente dipende di volta in volta a quello che preferisci di stagione in stagione avrai più insalata o più fiori ma hai ottimizzato sempre cioè sei sempre riuscito a fare il disegno nel modo migliore allora torniamo un po' a noi adesso questa cosa da una parte per fare la cosa migliore in assoluto immaginate che questa è la società e l'utopia che vogliamo costruire in cui riusciamo a fare la governance del digitale intelligenza artificiale inclusa per risolvere i problemi del mondo assicurandoci che questa roba qua tanto è stupida però lavori per noi semplice ecco questa utopia qua non si può raggiungere però si può approssimare cioè questa pallina qua rossa si avvicina sempre di più a qualcosa che è asintotico e tu non c'hai questa cosa qui che è l'utopia ma attraverso il tempo e i miglioramenti ti avvicini sempre di più si può fare e tanto più ti avvicini tanto più stai su quella frontiera di pareto di cose buone che funzionano bene allora la politica in questo caso non è più una questione di ci azzecchi oppure no ma tanti modi per azzeccarci che è molto più rilassante cioè vuol dire che non devi vincere un biglietto della lotteria ma che ce ne sono tanti di modi di vincere il biglietto della lotteria allora in realtà fare un po' di utopia in questo caso è semplicemente fare un po' di upgrading cioè tu di volta in volta migliori il tuo modo di fare design torniamo a noi allora vista questa cosa qui che vi devo spiegare se no non capite perché si possono risolvere il brain in tanti modi c'è il divorzio questo ormai lo sappiamo la gentità se ne va per conto solo l'intelligenza resta a casa questa forza di capacità di agire è come l'elettricità tu la apri la chiudi la metti la butti addosso ai dei problemi la possiamo buttare addosso ai problemi che ci stanno a cuore benissimo come? serve un progetto il progetto come lo fai? disegnandolo oddio disegnandolo se non c'è seco no tranquillo ci sono tanti modi per disegnarlo bene come le sedie ci sono tanti modi per fare il disegno giusto perché tutti più o meno sono delle buone sedie dipende dai tipi dai modi magari il disegno che facciamo qua in Italia sarà un po' diverso tranquillo ma là si può fare un po' di utopia sì non nel senso che la raggiungi ma nel senso che ogni upgrade ti avvicini sempre di più il che è buono cioè via via le cose vanno sempre meglio e cominci già a stare un po' più tranquilla a questo punto di che progetto stiamo parlando? cioè dove è che dovrebbe andare il ciberneta oggi? Platone? no sulla barca ecco qua l'ho già detto una volta per cui forse anche più di una volta mi scuso chi mi ha già sentito ma secondo me il ventunesimo secolo come progetto umano dovrebbe avere il verde e il blu che non è tanto intelligente ci vuole poco cioè mettere insieme il blu dell'intelligenza artificiale dell'elettricità del digitale con il verde dei problemi che abbiamo ambientali e sociali da una parte hai una massa di problemi da una parte hai una massa di soluzioni mica ci vuole un genio per metterli insieme ora come si possono mettere insieme? in tanti modi diversi quindi c'hai anche un certo spazio di manovra c'hai problemi c'hai le soluzioni c'hai uno spazio di manovra quello che manca è la politica letteralmente cioè non le risorse non la capacità di analisi non la possibilità variegata di risolvere le cose ma il deficit che abbiamo di capacità decisionale e organizzativa di mettere tutto questo nella stessa storia e allora qua il deficit politico resta ma non ne parleremo oggi il verde e il blu è una cosa che si può fare e siamo arrivati in finale e come potrebbe avere diciamo questo verde e blu come potrebbe mettersi insieme veramente vi ricordate siamo partiti da il digitale incolla e scolla lo possiamo fare in maniera intelligente non semplicemente che accada ma disegnandolo facciamo scollare il capitalismo dal consumismo che si può fare oggi sicuramente qui a Milano non magari in altri paesi non in altri posti più in via di sviluppo e possiamo rincollarlo a una filosofia della cura allora non una filosofia del consumo ma una filosofia della cura dove per cura non vuol dire semplicemente quanto ti voglio bene ma semplicemente occuparsi dell'ambiente occuparsi appunto dell'economia circolare del recupero delle risorse insomma c'è moltissimo che si può fare tant'è vero che la mafia lo sa benissimo e per questo si occupa di riciclo dei rifiuti allora in questo contesto il digitale deve essere disegnato sviluppato e impiegato sempre e soltanto a servizio dell'umano non e mai viceversa e in questo modo siamo arrivati un po' alla fine questo è l'ultimo messaggio e come dice all'inizio dice ma io adesso torno a casa almeno una cosa dice ma che ha detto una una vi lascio tanto una cosa sola vi ho raccontato di un divorzio e di un matrimonio il divorzio è tra la capacità di agire e l'intelligenza e si chiama intelligenza artificiale il matrimonio è tra il verde e il blue grazie 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 a tutti